si vola vai un attimo ad aggiungere un'opper là metto un atto operino ok a posto la forma è fatta completata allora dobbiamo andare dalle mucchette no? dobbiamo fare le mucchette ora che madonna la domanda è ma le mucche dove cazzo stanno? ecco io siamo nella casa delle mucche nella casa delle mucche ma questo ha perso il lavoro? eh io ho levato il cavo solo e l'ho perso qua sotto è un obbligo è bravo si questo si attacca a questo qua va l'opper qua va l'opper qua va la qua dovrebbe andare l'acqua ma questo potremmo pure rimanere l'aperta cioè qui va un blocco questo si apre qua va l'acqua ok ma non possono salire il pio me so così solo il mal fatto è portarle dall'acqua ok vediamo se vengono da qua le sono incastrate ok eh lei lei se ne va cioè si è infastidita salita eh ma sarà impossibile mettere in corso sto buco ok una andata e dai la bagaccia giù ragazzi cioè la cosa più difficile del mondo è portare una cazzo di mucca dentro a un buco vero eh te lo stai deviando completamente stai facendo impazzire ora ti ammazzo troppo ok tu l'entrata anch'io finito però mi devi liberare eccomi come faccio la devo togliere guarda niente divertente guarda timore prima che non ci attaccano cioè fra la farm di mucca fra la farm di ferro ma le coordinate ma farm di ferro cioè dove cazzo stai niente lui capito cioè ma esce pure lei quello è il problema eh spacca spacca la cosa in legno cioè la cosa in piedra ok però è giusta cioè vabbè lo stesso dai cioè ma le hai fatte tutto l'anno ma a questo punto portiamole qua e facciamole qua vicino facciamo una base così diventa tutto più carino e più bello guarda poi c'è sta questa titoletta stupenda che tu gli metti tutto il sugarcane quindi così bam 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 e per la striscia di qua striscia di qua bam 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 la striscia di qua forse la potrei risparmiare però la striscia sul buona e niente questa qua ma potrei ultra risparmiare vicino no no c'è stato dei meloni yes ecco qua ecco qua ora abbiamo anche raccolto delle delle sugar parco 2 brava l'avevo preso quello sotto allora direi ma lo sai che qua potremmo fare tipo una sorta di di roba sincera di roba bella eh carina potrebbe venire una roba carina tipo tipo scendere proprio capito come se fosse una voragine eh però continuare a scendere capito in che senso cioè scalino dopo scalino che va sempre più giù però poi ci farei un ascensore tipo diciamo che tipo capito tutto qua intorno tutto qua intorno viene tutta acqua che si ferma tipo a questo bordo così e sta venire un'idea di Cristo stavo pensando tanto che ormai già ho preso quasi tutto cazzo stavo pensando prima se lasciassimo le roba così come stanno che senso pensavo tipo i or così sono belli ah sì 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 ma infatti il ferro che cazzo la coglia fa allora guarda tipo così come ho fatto io e poi mettiamo tipo tutta acqua qua intorno guardo là sopra tutta acqua intorno che non può scendere però qua sotto quindi tipo la facciamo partire tipo tutta da qua e scende tipo tutta nei lati così diventa una nuova ragione con tutta acqua e poi qua ci siamo st Communist la miniera che avrà una stra gialla cosa fa con qualche altro modo papà 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 подaca ovunque ho quanti zombie questo se lo sp forevale guberna volevo una da me sicuro c'è noi are i on questa parte sicuro parra Vedi dove manca Dall'altra parte Tipo questo qua Dovrò a metterlo un po' più Eh sì Quella era l'idea Capito Cioè voglio coprire tutto qua sotto di acqua Voglio coprire tutto qua sotto di acqua Io capito Però quest'acqua non scende bene Oddio te lo dirò Se lo avete tutto a caso lui Sì intanto deve riempire L'ho pensata bene E' venuta un po' diversa L'ho pensata Però vuoi essere una hit Secondo me vuoi essere una hit Deve fare il pepe con il buco dice Oh te ti dirò guarda Oh distruggi quella fonte infinita Da sopra è carino fra Da sopra poi se illuminiamo E mettiamo roba Secondo me viene proprio una figata Tipo illuminiamo tutto il centro Tutto il Il coso intorno Capito dove Lo illuminiamo Secondo me viene una figata Ciao a tutti Ciao a tutti